Allora, coach Pasquale Bosco, insomma, avanti due a zero, poi la rimonta, qualche cartellino, qualche errore, che gran bella partita, nonostante tutto. Penso che sono composto, perché insomma la partita è stata bella, penso che si siano divertiti tutti, l'abbiamo onorata con una squadra che sapevamo che era superiore a noi, però noi ce l'abbiamo messa tutta. Non mi sento di recriminare su niente, penso che abbiamo fatto una partita fantastica, penso che meglio di così non potevamo giocare. Che dire, complimenti al Chiusi che l'ha vinta meritatamente questa coppa. Noi per un po' ci avevamo creduto, complimenti a loro, però io faccio i complimenti comunque alla mia squadra che ha fatto una partita eccezionale. Un gran bel risultato, davanti a un bel pubblico ora c'è un campionato da onorare, obiettivo da raggiungere. Sì, noi già siamo andati oltre le previsioni, ci siamo dati strada facendo degli obiettivi. Uno era quello di centrare i playoff in campionato e siamo secondi matematici e quindi l'abbiamo centrato. Poi ci avevamo dati l'obiettivo di centrare le Final Four e l'abbiamo centrato. L'unico obiettivo qui che ci avevamo dati è quello di arrivare in finale, cioè l'obiettivo nostro era quello di arrivare in finale. Anche quello è stato centrato. È mancata la gileggina, però era veramente difficile contro una squadra allestita in questo modo e quindi complimenti a loro di nuovo, mi ripeto. Io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, del percorso che abbiamo fatto con la squadra. Adesso ci rimane un campionato, sicuramente dovremo disputare i playoff e nei playoff speriamo di riuscire a fare ancora bene come stiamo facendo in questo campionato. Grazie. Grazie a mister Pasquale Bosco in Bocca al Lupo al Lago Negro.